Un cantiere in piena attività, operativo da un braccio all'altro. Appare così il porto di Salerno, mentre il pontone visibile dal lungomare è al lavoro per costruire una barriera di difesa a Santa Teresa, a fronte del mare, dove si sta completando anche Piazza della Libertà, sono pronti a partire anche gli interventi nel porto turistico masuccio salernitano. Ad annunciarlo a consegna dei lavori avvenuta il segretario generale dell'autorità di sistema portuale del martirreno centrale, Francesco Messineo. Con soddisfazione il segretario illustra i progetti che mostrano come i lavori cambieranno le due imboccature e proteggeranno la costa dal motondoso. Questo è oggi il bacino di Santa Teresa con alle spalle Piazza della Libertà e stiamo realizzando questo prolungamento della scogliera, questo pennello che servirà a proteggere il bacino di Santa Teresa e la piazza retrostante. I lavori sono cominciati da alcuni giorni e il pontone sta mettendo in opera gli scogli, i lavori che continueranno nelle prossime settimane. Per il masuccio salernitano però il segretario generale ci tiene a ribadire che si tratta solo di un primo intervento. Al momento il braccio che verrà costruito non sarà sufficiente a proteggere del tutto le imbarcazioni durante l'inverno, ma a presto, annunciato Messineo, si interverrà anche sulla banchina. Anche in questo caso abbiamo finalmente consegnato i lavori e quindi in questo momento sulla diga foranea del porto sono in costruzione i primi massi che poi verranno messi in opera in questa posizione realizzando questo pennello perpendicolare alla diga foranea che restringerà l'imboccatura del porto che oggi è molto larga e diventerà più stretta. Anche in questo caso si tratta di una prima forma di protezione ma non sarà l'ultima. E' così. Purtroppo questo lavoro che sicuramente avrà un significativo impatto nel ridurre il modo nodoso del porto però non è l'opera definitiva. Per mettere in sicurezza definitivamente il porto anche nei mesi invernali sarà necessario realizzare altre opere, in particolare trasformare questa banchina, la calata di riva dove c'è il CVS e la lega navale, in una banchina antiriflettente, cioè che assorba le onde. Quindi è un primo passo in avanti per migliorare la sicurezza però appunto è l'avvio di un percorso, non è la conclusione di questo percorso.